Sera presentiamo il Bomber del Valdano Football Club per la prossima stagione, nuovo acquisto Nico Bastianelli che ci introdurrà un po' sulle sue esperienze passate. Ho fatto le giovanili a Santa Firmina, dopo le prime esperienze in prima squadra sono stati con la Baldaccio Bruni in eccellenza a Subbiano, da lì poi ho girovagato un po', sono andato Marciano, Laterina, poi Alberoro in prima categoria per poi arrivare a Chiusi, dove ho fatto gli ultimi tre anni insieme a loro. L'ultima stagione è stata abbastanza proficua anche a livello realizzativo, hai fatto 16 reti, quali ti sono rimasti più interessi? Verità di facette, no niente, è stata una stagione particolare, non è stata sicuramente facile, siamo stati bravi alla fine a salvarsi nel play-out, ma ora forse il go, quello che mi viene in mente, forse quello nel play-out, nell'ultima partita, forse è quello più importante di quest'anno. Quest'anno alla prova del campionato eccellenza, cosa ti aspetti da questa stagione? No, sono carichissimo, questa società è prima di tutto una piazza importante, quindi spero veramente di fare bene e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.